È stato tutto così totalmente assurdo che sinceramente non potevo non farvi un video, sto rallentando la produzione di altri contenuti perché vi dovevo raccontare di tutto, dei regali, degli ospiti, ma anche delle esperienze. Non avrei mai detto che in due soli giorni sarebbero potute accaderne così tante. Ciao a tutti, oggi parleremo un pochino della mia esperienza con i B-Comics, di tutte le persone che ho visto, con cui ho interagito, Ciccio Gamer, Paolo Cannone, Dario Moccia, un sacco di artisti, ovviamente mio fratello, Domenico, tantissime cose che mi hanno lasciato veramente stunnata. Non mi aspettavo che la fiera sarebbe andata così bene, sono stata felicissima di essere l'host ufficiale, la madrina di questo evento, mi sono trovata benissimo con tutti gli organizzatori, anche se non vi nego che ieri, che era lunedì, mi sono trovata completamente bloccata a letto con l'influenza perché il primo giorno ho fatto una cosa come 14 ore di palco, il giorno successivo 10, ma belle intense. È stato assurdo sentire l'affetto delle persone, poi giocavo in casa, se vogliamo. Non mi capita spessissimo di presenziare a fiere vicino a casa e in particolare quindi poter tornare a Padova, città in cui ho studiato, è stato incredibile. Ho avuto un feedback che non mi aspettavo non tanto, non solo a livello lavorativo, ma proprio a livello umano. Ma vi vorrei raccontare un po' delle avventure che in un weekend sono successe, perché sono state tantissime. Scusate se oggi potrei essere un po' giù di voce o un po' così, ma sono ancora un filo stanca e oggi è una giornata folle dal punto di vista lavorativo. Prima di iniziare però vi ricordo che nell'infobox trovate tutti i miei social in cui sono particolarmente attiva e anche il mio codice di affiliazione con Mangaio. Beh, capita che vi darà diritto al 5% di sconto, ho usato tutte le mie capacità dialettiche al B-Comics. Allora, partiamo a bomba. Arrivo con 4 ore di sonno in corpo, perché sono arrivata il venerdì sera, da una giornata in cui avevo lavorato, ho fatto la scena con i clienti, abbiamo parlato un po' dell'organizzazione, ho dormito pochissimo, vengo svegliata alle 5 e mezza e da quel momento in poi, fino alle 6 e 45, quando mi sono dovuta alzare, non ho più chiuso occhio. Quindi per me che il sonno è la cosa più importante, iniziare una fiera così è stato molto, molto challenging. In quella giornata c'è stato un boom di ospiti, prima di tutto il maestro Nobuyoshi Abara, di cui vi parlerò a brevissimo perché mi ha fatto una cosa che mi ha portato a piangere come se non ci fosse un domani, ma ho anche avuto la possibilità di conoscere Ciccio Gamer, che è stato gentilissimo, abbiamo mangiato uno dei suoi ciccio burger sul palco e devo dire che erano davvero buoni, si è fatto intervistare con una gentilezza e una freschezza, anche una spontaneità, che non mi aspettavo perché lui è un personaggio che conosco ma che, ammetto, non ho mai seguito più di tanto, principalmente per la tipologia di gameplay che porta, che non rientra nella mia sfera di competenza o di interesse massimo, ma veramente una persona squisita. Lui ha anche la sua fidanzata e i suoi manager, tutti persone meravigliose, molto disponibili anche a fare una chiacchierata nel backstage, c'erano dei ritardi, li hanno accettati e aspettati sempre con il sorriso, quindi veramente una bellissima persona, non mi aspettavo che fosse così disponibile Mirko. Dopodiché siamo andati avanti, è arrivato Dario, Dario Moccia che avevo già conosciuto in diverse occasioni, principalmente offline, abbiamo lavorato insieme per alcune cose, ma ce l'avamo anche trovati per amicizie comuni, come appunto Domenico, ed è stato molto gentile anche lui. Anche quando l'ho cazziato, perché ha finito l'intervento sul palco con un quarto d'ora di anticipo, mentre io mi ero appena concessa una pausa bagno, ha accettato, ha detto, va bene, mi accollo anche la sgridata. Io ero assolutamente consapevole del fatto che avrebbe capito che non ero particolarmente arrabbiata con lui, ma che era una situazione generale, comunque è andata molto bene. Ovviamente con Domenico tutti gli interventi che abbiamo fatto insieme, tutte le chiacchierate sono sempre andate benissimo, perché come vi dicevo, Domenico per me è una persona specialissima, è proprio, oltre a essere una bella persona e essere una persona molto, molto professionale, è anche meravigliosa. Tra l'altro mi ha fatto un regalo anche lui, che non ho qui in questo momento, ma che poi vi metto nella lista dei regali, perché poi arriva la parte unboxing di questi regali meravigliosi del B-Comics. Ho avuto la possibilità anche di presentare insieme e chiacchierare con Zed Castle, che è un grandissimo professionista, anche lui che ha portato nel suo formatting course bravissimi artisti sia il sabato che la domenica, tra cui piccolo spoiler gli autori di Ad Adventure, che mi hanno fatto un disegno bellissimo, quindi non so come ringraziarli. Poi ho presentato la cosplay parade e lì c'è stato un momento assurdo, perché era stra pieno di cosplayer di Usbin Hotel, quindi io ho urlato tantissimo, mi sono messa a ballare sul palco e a cantare con pessimi risultati sul palco, perché ero veramente super, super emozionata. E anche lì ci sono stati momenti meravigliosi, perché poi vi mostrerò, mi è stato regalato un piccolo sketch di Angel Dust da parte di una giovanissima follower, e anche mi è stato fatto un disegno bellissimo da colui che si occupa di tutto il mondo dell'audio di Epicos, con cui ho collaborato sia il sabato che la domenica. Sabato sera poi totalmente inaspettato, abbiamo convinto io e il mio compagno Paolo all'ultimo domenico a raggiungerci, quindi se seguite domenico e avete visto che il sabato della pizza è iniziato un po' più tardi, perdonateci, è colpa nostra, ma era un'occasione per cenare con degli amici che si vedono molto poco spesso, abbiamo cercato di tagliare il più corto possibile, ho anche rinunciato alla cheesecake perché voi poteste avere il vostro sabato della pizza, ci tengo a precisarlo, però ci siamo divertiti, siamo riusciti a fare una mangiata con un po' più calma. La domenica è stata altrettanto folle, ma ancora densissima di emozioni, ho conosciuto Paolo Cannone che ha voluto che poi salissi un po' sul palco con lui per chiacchierare un po' insieme, anche lui di una disponibilità incredibile, la mattina al panel del Manga Caffè in cui abbiamo ricordato anche il Sensei Toriyama con tanto affetto, io, Domenico Z e Giordano di La Fortezza. Scusate se sparo nomi così, ma voglio veramente conciliare tutte quelle che sono state le emozioni, il feedback dalle persone, le foto, la gentilezza, ho visto anche follower molto piccoli che mi hanno strappato qualche lacrimuccia accompagnati magari dagli zii, dai genitori. Fa davvero strano, cioè io non so quante volte i creator, io per prima sottovalutano il fatto che, come secondo me dall'altra parte molto spesso non si capisce che dietro a un creator c'è una persona, e quindi una persona che può soffrire per le accuse, ma può gioire anche dell'affetto. Ecco, dall'altra parte anche io, o anche altri creator, non lo so, parlo per me, a volte sottovalutiamo di quanto, quanto sia bello sentire l'affetto dal vivo. Non prendete questa parte di video come traccotanza, vi prego, perché da questo punto di vista sono estremamente insicura, però vi posso dire questa cosa, dall'analytics di YouTube io ho visto di avere il 60% di ragazze che mi segue qui su YouTube e che circa un 15% sono ragazzine, giovani donne, tra i 13 e i 17 anni. Questo mi ha portato anche a capire di più, magari su Instagram, dove il pubblico è leggermente più grande, che c'è una responsabilità, una responsabilità che dal mio punto di vista va a veicolare soltanto due punti, quelli che vi ripeto sempre, cioè la gentilezza, il fatto che i confronti possano essere fatti rispettando l'altra persona e anche il continuare a parlare di ciò che amiamo nel miglior modo possibile, secondo il proprio tone of voice, che appunto nel mio caso può essere anche estremamente becero, spontaneo, a volte con delle imprecisioni. È stato bellissimo un momento quando è arrivato questo ragazzo, avrà avuto una trentina d'anni, quindi credevo che volesse fare lui la foto con me e mi ha detto invece ma no, scusami, c'è lei che vorrebbe una tua firma. Abbasso lo sguardo e c'era questa bambina adorabile, credo che abbia avuto, che non sono molto brava a dare l'età ai bambini, però avrebbe potuto avere tra gli 8 e i 12 anni e mi ha chiesto una firma, io ovviamente l'ho fatta una ledica, si chiamava Sabrina, e vi giuro io mi sono commossa tantissimo perché lei con la sua semplicità mi ha detto una frase che non riporterò, ma che veramente in momenti difficili che sto passando, in momenti in cui mi sento come se non stessi facendo mai niente di abbastanza buono, di abbastanza in generale, non solo sui social in generale, nella mia vita, queste cose segnano in modo indelebile. Ho ancora un'altra ragazza di cui purtroppo non ricordo il nome in questo momento che era vestita da Charlie, accompagnata da un'amica vestita da Rosie di Asbin Hotel, che si è visibilmente emozionata e mi ha chiesto un abbraccio e anche lì mi sono scese ancora un'altra ragazza che era vestita in maniera geniale da Soichi con la testa di Tommy, che ho visto alla parade e il giorno dopo, dopo che sia esibita nella gara cosplay con un OG, mi ha richiesto di, mi ha chiesto se potevo insomma abbracciarla e io mi sono lasciata prendere, infatti mi sono sporcata tutto il viso di trucco nero, che poi dovevo risalire sul palco, ma sono cose veramente che hanno un peso, hanno un peso ed è un peso meraviglioso, quando mi sento un po' giù a ricordare queste cose mi innalza. Così come dall'altra parte invece mi sono sentita onoratissima perché il Sensei Nobuyoshi Abara mi ha voluto fare un ritratto, non me lo sarei mai aspettata ed è stato uno dei momenti più alti. Quindi a questo punto vi direi, se non l'avete ancora fatto, di lasciare un like, un commento, perché passiamo alla parte unboxing dei regali sia da parte del pubblico sia da parte di amici, colleghi, Sensei. Partiamo con Domenico che la sera stessa in cui ci siamo visti mi ha regalato questo portachiavi meraviglioso, l'artista si chiama Fabsno e mi ha dato questa cosa stupenda. Vedete, da una parte c'è Asuka, dall'altra leva 02. Io già qui ho detto, vabbè, ho capito che piango. Poi i ragazzi di Sakura Town, da cui abbiamo anche acquistato delle cose, vi dico sempre, non è sponsored, ma io vado spessissimo dai ragazzi di Sakura Town perché hanno delle chicchette, mi hanno regalato questo, il primo numero di Greyman preso in Giappone appositamente per me. Guardate, che meraviglia. Io con queste cose mi sono letteralmente distrutta. In realtà credo che questa, forse scusatemi, perché ovviamente non so il giapponese, non ho ancora guardato, lo sto guardando con voi. Credo che in realtà questo sia il primo volume della novel perché a giudicare dall'interno, sì, credo che sia anche la storia di Alan Walker, questo mi fa piangere ancora di più. Io ovviamente non so il giapponese, ma questo lo terrò come un tesoro. E poi mi hanno regalato questo volume di Shonen Jump dedicato a The Greyman. Ve lo faccio vedere con voi, ma io sono veramente allibita. Guardate. Questi sono dei capitoli, questa è la lotta di Tikinik. Vabbè, non vi spoilerò niente, però incredibile. Anche questo lo terrò stretto nel cuore. Vi mostro uno dei pezzi più belli, prima vi dicevo, del Sensei Nobuyoshi Abara, un artista a 360 gradi che ha prodotto, ha seguito la regia di tantissimi anime che hanno fatto la storia. Era con sua moglie, la Sensei Kumiko. Anche lei è una regista, pensate, la prima coppia in Giappone. che fa lo stesso lavoro. Entrambi sono registi di anime e mi ha fatto questo ritratto meraviglioso. Non ho una sleeve, purtroppo, ma ho appena ordinato una cornice. Io, quando l'ho visto, vediamo se riesco a mettermi una foto. Comunque ho pianto tantissimo. Io non chiedo mai queste cose in fiera. A volte avrei la possibilità, ma mi vergogno sempre tantissimo perché non voglio passare avanti, non voglio magari dover delegare e chiedere a qualcun altro di farlo, anche se in questa fiera l'ho dovuta fare, ma poi vi spiegherò. E quindi per me è stato allucinante il fatto di ricevere un ritratto del genere. Ovviamente io non l'ho chiesto perché mi sarei abbastanza vergognata, però purtroppo lavorando, purtroppo, per fortuna lavorando tutto il giorno sul palco mi è anche quasi impossibile fare file e molto spesso delle fiere mi manca quello. Il fatto che io tendenzialmente quando vado in fiera al lavoro faccio palco, faccio panel anche tutto il giorno, quindi mi è molto difficile poter godermi anche tanti artisti che ci sono in fiera. Quindi questo regalo per me vale cento, mille, milioni di altre cose. Rimanendo in tema disegni, però, questo qui è il disegno che vi perlevo prima, fatto da Zim, scusate, prima ho detto Zedt di Epicos, mi ha fatto questo disegno meraviglioso di Asuka, anche per questo ho preso una cornice perché secondo me è davvero bellissimo. e questo piccolo schiacino di Angel Dust che ho messo qui da parte di Colli che so che mi segue anche su YouTube, apprezzatissimo e questo Angel Dust è cute in modo veramente incredibile. Proseguiamo con un altro disegno che mi è stato fatto in questo caso da Nicolò che me l'ha anche incorniciato, eccolo qui, anche Nicolò è stato dolcissimo, mi ha fatto la dedica, siamo riusciti a beccarci per una foto, quindi grazie mille Nicolò. e poi passiamo a questo è un regalo che Paolo mi ha fatto perché sono andata a salutare Domenico mentre firmava nello shop in cui stava lavorando e l'ho fatto con uno spritz bianco, quindi ho cosparso i manga di spritz bianco, grazie a Dio i manga stanno tutti bene tranne un volume che si era leggermentissimamente gonfiato, quindi ovviamente ho detto lo compro però voglio la firma di Domenico e ovviamente non è che ha scritto Beati voglio bene, ha scritto e io ho anche sbavato questo perché l'ho preso ha Paolo il migliore, vabbè quindi abbiamo un'altra copia di Chainsaw Man, questo invece è un May, questa è di una nuova casa editrice e all'interno di questo primo volume ci sono un sacco di racconti di artisti esordienti e anche qui l'autore ha voluto schecciarmelo con una bellissima Asuka, tra l'altro anche lui mi è stato iper simpaticissimo Maruko, eccolo qui, perché ho scoperto che la sua fidanzata ha i miei stessi gusti infatti di cucina, infatti lei ha detto ti seguo perché mi piace la tua cucina e quindi gli ho dato dei consigli su come realizzare questa cucina senza spendere un occhio della testa perché quello che ho dietro per chi mi segue anche su Insta non è veramente calacatta, è un fake perché altrimenti non ci saremmo potuti permettere la cucina. andiamo avanti prima vi dicevo che ho un po' fributato infatti ho chiesto a Paolo di andare a recuperarmi un volume che mi interessava e lui però è stato incredibile quindi ringrazio anche Fabrizio di Edizioni BD per aver concesso agli artisti di avere questo minimo slot per farlo perché Alessandro Starace e Leonardo Bergella che avevano fatto un panel di In Course e hanno portato Dada Adventure il primo volume mi hanno fatto uno sketch mi hanno fatto uno sketch bellissimo l'hanno fatto a Paolo e Paolo e hanno detto disegniamo la protagonista e Paolo fa ma perché dobbiamo ancora leggerlo Dada Adventure ma c'è un personaggio con i capelli rossi eh sì ma è più avanti non importa è rossa è traumatizzata è per Bea e quindi ho questo sketch meraviglioso e niente io mi sono innamorata già cioè pur non conoscendo ancora bene la storia la conosco solo per sommi capi già per questo sketch sono innamoratissima e sono sicura che Dada Adventure sarà un fumetto che mi piacerà un sacco arriviamo poi quasi finito il video eh raga se siete rimasti fino a qui mi raccomando scrivete regali affetto qualcosa del genere nei commenti arriviamo alla parte figure allora Sakura Town mi ha anche voluto regalare questa meravigliosa si chiamano Rodi io ho già un Asuka che lo tiene in mano perché hanno fatto questa collaborazione con Evangelion vedete Eva per Rodi però c'era questo qui super carino e hanno voluto regalarmelo che ovviamente è del Eva02 e andrà vicino alla sua Asuka che appunto lo tiene in braccio in versione miniaturizzata io ho fatto l'unico regalo che beh ovviamente i manga che avete visto che vi ho detto i fumetti li ho pagati però a parte quello l'unico regalo che ho fatto io a Paolo che poverino mi ha supportato ha fatto un sacco di contenuti mi è stato dietro mentre io ero distrutta per i piedi gli ho regalato questo qui è senza scatola perché arrivano direttamente dal Giappone questo chopper con Dugongo io amo adoro quanto è carino gli sto regalando una piccola selezione di chopper in varie situazioni perché io li trovo bellissimi super cute e non voglio iniziare a prendere mille figure di One Piece mi sono detta finché non ho visto questa figure di Nami e quindi Paolo ha ricambiato subito il regalo regalandomi la mia prima figure di Nami e sinceramente spero che non diventi un'abitudine ora ve la faccio vedere è di una linea del 2017 se non sbaglio vi dicevo che hanno un po' di chicchette è Nami vestita da sposa io l'ho vista me ne sono subito innamorata e quindi io ve la faccio vedere ed eccola qui io la trovo bellissima voi cosa ne dite c'è anche la versione B però in questo caso era disponibile solo la versione diciamo più regular e niente mi ha fatto impazzire il viso non so quanto si riesca a vedere ma anche la posa e anche l'eleganza dell'abito dietro ho capito che con questi pezzi dovrò iniziare veramente a organizzare la mia collezione di One Piece in modo un po' un po' più meglio ecco non lasciarlo in un angolo perché penso che anche in Giappone troverò diverse cose anche se fortunatamente penso che il mio focus su One Piece sarà sempre ciò per grazie ragazze grazie ancora una volta per questo incredibile B-Comics grazie per l'affetto che state dando a una persona che veramente a volte ha dei momenti in cui non si sente all'altezza quindi questo calore mi lascia esterrefatta scusatemi se questo video non è stato particolarmente ragionato ma volevo raccontarvi un po' di questa esperienza un po' di pancia grazie anche per i numeri che stanno crescendo non so come andrà questo video perché magari è una fiera meno conosciuta e perché appunto è stato molto discorsivo però sappiate che ognuno di questi momenti ha avuto una grandissima rilevanza anche il fatto di non poter ovviamente entrare nei dettagli di conversazioni private che ho avuto con creator con colleghi ma sono stati tutti scambi molto positivi molto di crescita anche quando mi sono trovata magari a cena a scontrarmi ideologicamente non in maniera politica con qualcuno è stata comunque un'occasione di crescita e io credo che questa sia un'ulteriore dimostrazione che gentilezza e cultura possono portare davvero lontani quindi vi ringrazio se avete seguito il video fino a qui e ancora una volta se vi va iscrivetevi al canale lasciate un like un commento e ci vediamo al prossimo video ciao arriverà un mega unboxing di manga io ma anche di l'orcana quindi preparatevi ciao